Oggi desidero condividere con voi alcuni interrogativi, alcune domande alle quali forse voi avete già però dato risposta. Ed ecco le domande. Ma voi sapete che qui fra le nostre case, vicino a casa nostra, magari per noi camminiamo qui in città, ci sono ben un centinaio di persone che vivono nel nostro carcere. E un'altra domanda, voi sapete che questi sì hanno fatto degli errori, però sono uomini e donne come noi, hanno affetti, le loro figli a casa, le loro mogli. Voi sapete di fatto che vivono proprio in pochi metri quadri, tre, quattro insieme, ma voi sapete che ci sono però del personale, direi squisiti il personale, dal direttore, la polizia carcerale, il comandante, gli educatori. Persino i nostri carcerati hanno un prete, un parroco si potrebbe dire. Ma voi sapete che queste persone hanno bisogno di tutto, cioè di biancheria intima, di un franco bollo per scrivere da casa, di una sigaretta, ecco della biancheria, hanno bisogno di tutto. Ma voi vi direte, ma perché il Vescovo ci pone queste domande? Ecco, le domande perché mi frulla e mi rifrulla sulla testa quella parola di Gesù che dice, ero carcerato e siete venuti a trovarmi. E voi direte, ma come si fa ad andare a trovarmi allora, se Gesù dice questo? Ma provate a pensare, già nella nostra mente, non discriminarli perché sono decarcerati, ma pregare per loro. Essere vicini a loro come volontari, esiste i volontari del carcere e esiste anche una casa per essere carcerati a San Pietravico, i volontari del carcere, questo gruppo che li segue. Ma provate anche a pensare, a provvedere piccole offerte per comprarsi il necessario, la biancheria, come diceva così via. E così siete venuti a trovarmi, dice Gesù. Ma io vorrei leggervi poi una lettera, bellissima, che è arrivata questi giorni da un carcerato, che dice così. Il motivo per cui ho deciso di scrivervi arrivi anche al Vescove e a tutti i fedeli che ve ne partecipano. Molto semplicemente il motivo è il ringraziarvi per tutto l'aiuto che riceviamo da voi. Ci tenevo a mettervi al corrente che ogni vostro singolo gesto, nei nostri confronti, è un enorme gesto. E continua. La fede, il sostegno morale, economico, il tempo che ci donate è immenso, ci aiuta a un po' meglio quello che quotidianamente è duro da vivere in queste giungle. È giusto rendere penitenza ad ogni singolo errore, ma questo è molto più di una penitenza. Ed è appunto il grazie a tutti i vostri sostegni. È grazie a vostri sostegni se riusciamo a tenere duro e andare avanti. Io in prima persona volevo anche ringraziarvi per la fiducia che riceverò dell'avere una Bibbia e poter dedicare parte di me stesso alla parola di Dio. È il dono che ho fatto a nome di tutti. Il resto facciamolo insieme.